Musica Si allunga la scia di sangue sulle strade pugliesi, muore un altro ragazzo rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto venerdì sera sul tratto di statale che collega Brindisi a San Pietro Vernotico, un dramma senza fine che impone una riflessione ai suoi giovani sulla guida responsabile e la sicurezza delle strade. Solo pochi giorni fa un altro terribile incidente ha stroncato tre giovani vite nel Barese. Parte a Lecce il processo dell'inchiesta Re Artù su corruzione e concorsi pilotati, in 22 a giudizio coinvolto anche l'ex senatore Totò Ruggeri. Con Giobbe Covatta parte il Natale nelle Grotte 2022, programma di tre appuntamenti organizzati nella Caverna della Grave delle Grotte di Castellana in occasione del periodo festivo. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dell'informazione di Antenna Sud. Apriamo questa edizione con la cronaca perché purtroppo si allunga la scia di sangue sulle strade pugliesi. Muore un altro ragazzo rimasto coinvolto. Nel terribile incidente avvenuto venerdì sera sul tratto di statale che collega Brindisi a San Pietro Vernotico. Un dramma senza fine. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti. Gabriele Elia non ce l'ha fatta. Il ragazzo di 20 anni di San Pietro Vernotico è la terza vittima del tragico incidente stradale avvenuto venerdì sera sulla statale 16 all'altezza di Tuturano. Gabriele era stato trasferito in condizioni disperate all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d'urgenza alla testa per tentare di ridurre il gravissimo trauma cranico riportato nell'incidente, ma è stato tutto inutile. Il ragazzo aveva frequentato anche lui l'istituto tecnico Giorgi di Brindisi, la stessa scuola di Luigi Marangio, il diciottenne che era alla guida della Fiat Panda che si è cappottata nell'incidente e che era morto sul colpo. Eccoli insieme, Gabriele e Luigi, in una foto pubblicata da una conoscente sui social. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Perrino di Brindisi, un altro diciottenne per il quale la sorella ha sollecitato la donazione di sangue. Mercoledì 21 dicembre, un'auto emoteca sarà a disposizione a San Pietro Vernotico, dalle 17 alle 21, nei pressi della Chiesa degli Angeli Custodi. Intanto sabato a San Pietro si sono svolti i funerali di Luigi e domenica, presso la parrocchia della Minuta a Brindisi, quelli di Augustin, il giovane di origini ganesi ma trapiantato nel capoluogo da anni. Nell'incidente sono stati coinvolti altri due giovani, uno ha riportato solo alcune fratture, l'altro è rimasto miracolosamente illeso. Sulla dinamica dello schianto sono in corso gli accertamenti della polizia locale. Un dramma senza fine che impone una riflessione sui giovani, sulla guida responsabile e sulla sicurezza delle strade. Solo pochi giorni fa un altro terribile incidente ha stroncato, lo ricordiamo, tre giovani vite nel barese. Noi intanto abbiamo intervistato il procuratore di Brindisi, De Donno, sull'ultimo incidente che si è verificato lo scorso weekend. Sentiamolo. Rivedere la formazione per la sicurezza stradale, partendo in particolare dai giovani e non solo. Questo è il messaggio del procuratore capo di Brindisi, Antonio De Donno, in riferimento agli ultimi episodi che hanno portato diverse morti proprio per sinistri stradali nella provincia di Brindisi. Un messaggio accorato in particolare in vista delle festività che vedrà una mobilità ancora maggiore sulle strade del territorio. Il primo messaggio è quello dell'attenzione nella guida delle auto e soprattutto quello della formazione per evitare che incidenti che hanno visto la morte soprattutto di giovani e giovanissimi e comunque ogni tipo di morte non si ripetano. Io ponco molto l'attenzione sul problema della circolazione stradale. Abbiamo avuto troppi sinistri stradali con troppe vittime negli ultimi tempi e questo deve indurre anche a riflettere sull'utilizzo, diciamo, su come si guida, come ci si pone alla guida. Purtroppo molto spesso giovanissimi sono stati vittime di questi incidenti. Quindi bisogna cominciare intanto a riformare i giovani, a ricreare controlli sulla circolazione stradale, intensificare i controlli ma più che altro a spiegare ai giovani e lo faremo nelle scuole e in tutti i luoghi in cui è possibile dialogare. ai giovani e anche ai meno giovani, purtroppo, che la macchina è un pericolo in sé. La guida di un autoveicolo è qualcosa che deve indurre sempre la massima attenzione, la massima moderazione, la massima ponderazione. Parte a Lecce il processo dell'inchiesta Re Artù su corruzione e concorsi pilotati. In 22, a giudizio, coinvolto anche l'ex senatore Totò Ruggeri. Tra poco saremo in grado di trasmettervi il servizio su questa inchiesta e sulla partenza del processo. Andiamo invece nel Foggiano per il rinvio a giudizio dell'ex sindaco di Foggia, Franco Landella. E' accaduto quello che ci aspettavamo già, cioè l'invio a giudizio di tutti gli imputati, ad eccezione di posizioni che, per la verità, per tutti erano abbastanza chiare, che fossero di fuori dei parametri per poter essere inviati a giudizio, per tutti gli imputati. Non c'è stato altro che rinvio a giudizio, che era, diciamo, un atto, secondo noi, dovuto in questa fase. Il processo penale, per come è strutturato adesso, ha un'udienza preliminare in cui le attività che si possono svolgere sono molto limitate, e soprattutto il vaglio del giudice è molto limitato, ma attualmente non c'era da aspettarsi altro. Noi abbiamo fatto solo richieste formali di trascioglimento, ben consapevoli che non è questa la fase in cui potevamo esporre le nostre difese in maniera più compiuta. Arriva il dibattimento e direi arriva finalmente il dibattimento. Inizierà il 15 marzo 2023 il dibattimento nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Foggia su episodi di presunta corruzione, concussione e peculato che ha travolto Palazzo di Città. Nelle scorse ore, infatti, il giudice per l'udienza preliminare, Mare Luisa Bencivenga, ha pronunciato la sentenza di rinvio a giudizio per 12 dei 18 indagati, tra cui l'ex primo cittadino del capologo Dauno Franco Landella, la moglie Daniela Di Donna, e l'ex presidente del Consiglio Comunale Leonardo Iaccarino. Non luogo a procedere per i tre consiglieri di Pasqua, Ventura e Rignanese. Hanno patteggiato invece Marianna Tucci e Davide Saurino, condannati rispettivamente ad un anno e tre mesi e un anno di reclusione con sospensione della pena, stralciata la posizione di Michele Di Carlo che sarà giudicato separatamente. Da oggi abbiamo consapevolezza che dobbiamo affrontare un processo, un processo lungo, un processo difficile, ma che alla fine dovrà partorire una verità che sia una verità processuale, insomma, perché una verità storica la sanno soltanto gli imputati. E questo era il rivio a giudizio dell'ex sindaco di Foggia Franco Landella per il terremoto che si era verificato a Palazzo di Città e Tangenti. Torniamo al servizio che avevo anticipato prima sull'inchiesta Re Artù a Lecce, inchiesta su corruzione e concorsi pilotati. Parte il processo proprio oggi in 22 a giudizio, compreso anche l'ex senatore Totò Ruggeri. Sentiamo i dettagli. Ha avuto luogo presso l'aula bunker di Lecce l'udienza preliminare nell'inchiesta nota come Re Artù che vede sotto accusa tra gli altri l'ex senatore e assessore regionale Totò Ruggeri ai domiciliari dallo scorso 7 luglio. Coinvolte altre 22 persone nello stesso procedimento. Le accuse contestate a vario titolo sono di corruzione, traffico di influenze illecite e falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici. In aula presenti gli avvocati delle varie parti. Degli imputati invece ha scelto di essere presente solo Massimiliano Romano. Il primo dibattimento si è potratto oltre le previsioni, tanto è da richiedere una sospensione per tornare in aula nelle prime ore del pomeriggio. Avvocato al momento è stato sospeso, cosa si è discusso però? È stata la costituzione di parte civile delle amministrazioni ASL e Regione e di altre parti private che si ritengono lese dagli accadimenti di cui si sta discutendo. Il giudice si riserverà, anzi si è già riservato e deciderà nelle prossime ore. Cambio di comando per la Guardia Costiera di Tarato, cerimonia all'interno della cornice del castello aragonese. Nella suggestiva cornice del castello aragonese di Taranto si è svolta la cerimonia di cambio di comando della Guardia Costiera Capitaneria di Porto della città Ionica. Il comandante Diego Tomat ha ceduto il comando al capitano di Vascello Rosario Omeo. Presente l'ammiraglio Flavio Biaggi, comandante del comando interregionale Marittimo Sud. C'erano le autorità locali Ioniche, anche l'ammiraglio Vincenzo Leone, direttore marittimo della Puglia e della Basilicata. Il comandante Tomat ha fatto benissimo, sono certo che anche chi lo sostituirà fa l'altrettanto, in un porto, in una città, in una terra che sprizza marittimità da tutti i pori. Mi spiace lasciare veramente questa splendida città, dove c'è tutta una realtà in movimento per proiettarsi in un futuro sicuramente pieno di gioia e soddisfazioni. Quindi ringrazio tutta la città di Taranto, tutte le istituzioni locali, tutti i colleghi delle altre forze di polizia, di forza armata, e ringrazio anche voi Stampa, perché ci siete sempre stati vicini. Si parte dalla più proficua e, secondo me, stretta cooperazione interistituzionale. Questi territori sono territori che hanno criticità sistemica, che non possono essere affrontati in maniera singola, da un singolo, come dire, tutore di ordine e legalità. Serve la più grande coesione, di modo che i risultati che possano essere naturalmente a fuori dalle autorità, siano risultati concreti. Torniamo a occuparci del femminicidio di Apricena nel Foggiano. Giovanna Frino, la donna di 44 anni, freddata in casa dal marito con quattro colpi di arma da fuoco. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti. Potrebbero esserci la gelosia e uno stato di prostrazione psicologica dovuta alla difficoltà di trovare un'occupazione stabile alla base del femminicidio avvenuto lo scorso 16 dicembre ad Apricena nel Foggiano. in cui la 44enne Giovanna Frino, madre di tre figlie, è stata uccisa con tre colpi di pistola calibro 9 in casa dal marito, Angelo Di Lella, 56 anni, ex guardia giurata. Secondo quanto appreso da alcune testimonianze di conoscenti della coppia, tra i due i rapporti negli ultimi tempi erano molto tesi a causa di frequenti litigi e pressioni da parte dell'uomo. Gli investigatori cercano dunque all'interno del rapporto tra i due coniugi le risposte alla tragedia. L'indagato al momento dell'arresto era in uno stato confusionale. Pochi minuti prima dell'arrivo del 118 era uscito sul balcone per chiedere aiuto mentre il corpo della moglie giaceva esanime nella cucina dell'appartamento al primo piano di via Saragat. In quel momento in casa si trovava la figlia a 17enne della coppia, l'altra di sette anni si trovava a scuola mentre la più grande, una ventenne, è studentessa universitaria a Firenze. L'uomo è attualmente stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato e nelle prossime ore verrà ascoltato dal giudice per le indagini preliminari per l'interrogatorio di garanzia e la convalida del fermo. La pistola utilizzata per l'omicidio verrà sottoposta ad esami tecnici mentre non si esclude che il pubblico ministero possa affidare l'incarico al perito affinché venga eseguita l'autopsia sul corpo della donna. Andiamo nel quartiere Tamburi di Taranto per una marcia speciale, la marcia dei bambini. Ricordiamo che il quartiere Tamburi è colpito particolarmente dalle emissioni dello stabilimento siderurgico ex-ILVA con un incremento nel corso degli anni dell'incidenza dei tumori anche infantili. Allora guardiamo questa importante marcia. Grandissima partecipazione di piccoli studenti, docenti ma soprattutto genitori alla manifestazione che si è snodata per le vie del quartiere Tamburi di Taranto organizzata dall'Istituto Comprensivo Galilei. La comunità scolastica è scesa in campo per le strade del quartiere simbolo della città di Taranto. Lo slogan della marcia è stato Marciamo insieme verso il Natale. La partenza dal plesso Giusti, poi via Masaccio, via Orsini, via Ugo Foscolo, via Archimede e via Verdi. La marcia si è conclusa nel cortile del plesso Gabelli in via Verdi con l'accensione dell'albero e la benedizione natalizia. Oggi l'Istituto Comprensivo Galileo Galilei ha voluto festeggiare il Natale con questa manifestazione sulla pace. Tutto ciò per incontrare i cittadini del quartiere e per portare l'entusiasmo dei nostri ragazzi tra la gente, tra questa gente che popola il quartiere Tamburi. Non a caso abbiamo scelto questo periodo perché il Natale gioia è gioia religiosa, di Dio, di pace, di fratellanza. Tutti i messaggi che con questa manifestazione, con questa marcia che noi abbiamo denominato Marcia della Pace, forse anche impropriamente, abbiamo voluto, come dicevo prima, portare l'entusiasmo che anima la nostra scuola e per far sì che i nostri genitori potessero collaborare ancora di più a questi eventi. Nella giornata del 18 dicembre ci sarebbe stato un picco elevatissimo di benzene cancerogeno proprio nel quartiere Tamburi di Taranto, in via Machiavelli, registrato dalla centralina dell'Arpa Puglia. Alle ore 4 la concentrazione è arrivata a 42 microgrammi a metro cubo. Lo segnaleremo a chi di competenza. Lo sottolinea il presidente di Peace Link, Alessandro Marescotti, aggiungendo che l'Ufficio Salute della California fissa invece il valore di soglia acuto, calcolato su base oraria, a 27 microgrammi a metro cubo. L'ambientalista ricorda che il benzene è tra l'altro una sostanza tipica della cocheria Ilva e chiede agli enti di controllo di dare risposte. Il valore della centralina in via Orsini conclude Marescotti è probabilmente ancora più elevato di quello di via Machiavelli, ma non abbiamo accesso ai dati orari di quella centralina. Un altro picco di benzene a rione Tamburi era stato segnalato nel luglio scorso. Lasciamo Taranto, ci spostiamo a Brindisi per il recupero dei capannoni ex-Saxa. Quindi adesso abbiamo un restauro via libera e c'è l'appalto praticamente che sta partendo del capannone destinato a medicina sociale collegata all'autismo. Una svolta storica per Brindisi, l'ennesima, è stato pubblicato l'avviso per l'affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione del capannone ex-Saxa 1 situato all'interno del parco del Cillarese a Brindisi. È il primo passo verso la riqualificazione di tutti i capannoni abbandonati ormai da diversi anni. La pubblicazione del bando per la riqualificazione di questo posto è un grandissimo risultato della nostra amministrazione, ha dichiarato il sindaco Riccardo Rossi. Dopo anni di lavoro, di mediazione e rimodulazione delle progettualità per superare tutti gli ostacoli, siamo pronti a rigenerare un altro spazio strategico della città. La finalità di questo progetto è dotare finalmente la città di uno spazio adeguato e innovativo per bambini e bambine con disturbi dello spettro autistico per dare risposta alle famiglie sul presente e sul futuro. Il spettro autistico è una medicina molto importante per la società oggi. Coinvolge i ragazzi, siamo molto contenti di questo. È uno dei capannoni. e dovrebbe essere dedicato a questo. In parte ci sarà un museo piccolino dei materiali che ancora ci sono della Sacca, di questa società che è nata nella prima metà del Novecento per fare la manutenzione degli idrovolanti. È una cosa molto rara nella storia industriale dell'Italia. Quindi questo capannone, che non è il più grande, sarà ricco di funzioni molto importanti. È un capannone tutelato dallo Stato, fatto con una tecnologia degli anni 40. Acquedotto Pugliese sta imprimendo una grandissima accelerazione sugli investimenti, che credo non abbia uguali, dice il presidente di ACUP, Domenico Laforgia. In particolare nel 2022 Acquedotto ha pubblicato appalti per oltre un miliardo di euro. Sentite. Nel 2022 Acquedotto Pugliese ha pubblicato appalti per oltre un miliardo di euro e ha giudicato gare per 600 milioni. Una cifra importante, soprattutto se si pensa che ogni euro investito da ACUP fa sviluppare altre 15 euro al sistema economico locale. Dimostriamo così concretamente, spiega il presidente di ACUP, Domenico Laforgia, di aver cambiato il passo degli investimenti a tutto vantaggio del territorio. Tra le gare di maggiore rilievo per rilevanza economica attivate da ACUP, considerando solo quelle per lavori o progettazione, sono stati investiti 504 milioni di euro. Di questi sono 50 quelli rinvenienti dei fondi europei e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza utilizzati per il recupero idrico. Un programma di interventi annunciato d'aprile scorso con il via libera dal Consiglio di Amministrazione di Acquedotto Pugliese, che ha dimostrato, sottolinea Laforgia, di saper cogliere rapidamente le opportunità offerte dal PNRR. La nostra reattività sta consentendo di portare avanti l'ulteriore risanamento delle reti e consentirà di completare le opere finanziate entro il prossimo anno e più in generale di attuare il piano strategico al 2026, di cui oltre l'85% è dedicato a migliorare la qualità del servizio ai clienti e alla mitigazione dell'impatto ambientale tramite la riduzione delle perdite e il raggiungimento di nuove frontiere tecnologiche nell'ambito del sistema di depurazione. Sugli investimenti stiamo imprimendo un'accelerazione enorme che credo non abbia uguali, conclude Laforgia. A Gallipoli prende il via una iniziativa dedicata all'artigianato, gli artigiani che si mettono in rete per potenziare le loro attività. Scopriamo di più. Tutti sotto lo stesso logo, se l'esposizione d'arte artigianato che raccoglie opere pittoriche, scultore e tessili, video installazioni, illustrazioni e tavole di fumetto, degustazione di assenzio, esposizione di libri e tanto altro. Tutto ciò per garantire una totale immersione nell'arte in tutte le sue più svariate forme. Logos nasce dalla volontà di creare un centro nevralgico a Gallipoli, un centro artistico e culturale, che possa diventare una culla per accogliere tutte le personalità artistiche presenti sul territorio. Si mette in risalto un tipo di arte che piano piano sta sparendo, cioè non viene dato molto credito ad un'alternativa nell'arte. Quindi Logos nasce anche per questo, dare una speranza e dare una mano a tutti quegli artigiani artisti che hanno difficoltà anche di emergere. Uno degli scopi è quello di creare a Gallipoli una rete di artisti del territorio e attraverso essi diffondere messaggi dal contenuto intellettuale, morale e spirituale con il fine di essere utili. Allora, il progetto innanzitutto nasce da zero. Zero fondi, zero budget e dobbiamo ringraziare sia la nostra volontà di fare emergere le nostre idee. In cantiere ci sono dei grossi progetti molto interessanti che aspettano soltanto di essere svelati. Con Giobbe e Covatta parte Natale nelle Grotte 2022, programma di tre appuntamenti. Questo è il primo, organizzati nella Caverna delle Grave delle Grotte di Castellana in occasione del periodo natalizio. Guardate. Con Giobbe e Covatta è stato inaugurato domenica 18 dicembre Natale nelle Grotte 2022, programma di tre appuntamenti organizzati nella Caverna delle Grotte delle Grotte di Castellana in occasione del periodo festivo che si inserisce nel contesto piazze d'inverno. L'ampio cartellone di appuntamenti dal 7 dicembre al 23 gennaio organizzato dal comune di Castellana Grotte e le Grotte di Castellana SRL. Covatta ha divertito il pubblico in linea con il suo stile, dove ironia e satira si intrecciano, a volte con la scienza, a volte con la carta dei diritti, giocando ma allo stesso tempo lasciando allo spettatore più di una riflessione. e finalmente inizia Natale nelle Grotte, col primo evento Giobbe e Covatta. Mercoledì abbiamo San Giorgi di Negramaro e chiudiamo giovedì con il pianista mezz'aria. Tre eventi diversi, ma molto belli e fantastici. la gente ha risposto molto bene alla presenza. È veramente un bel calendario che serve a dar lustro a questo patrimonio meraviglioso che noi abbiamo, dove l'arte esposa la natura. Quindi questo è sempre stato l'obiettivo con cui ci siamo proposti di promuovere questi eventi all'interno delle Grotte di Castellana. E tutti gli artisti che si sono esibiti fino ad oggi hanno sempre parlato di un'esperienza meravigliosa. Per Natale in Grotta dobbiamo ringraziare prima di tutto la Regione Puglia, il Comune di Castellana, il Puglia Promozione e Teatro Pubblico Pugliese che hanno contribuito all'organizzazione dell'evento. È un gioco, un disvertimo, come dicono i francesi che hanno perso i mondiali. È un disvertimo, è un gioco, come dicono gli argentini, che invece i mondiali l'hanno vinta. E questo è insomma, nulla di... Veramente un gioco. Tra l'altro la scaletta durava due ore, poi quando siamo arrivati mi hanno detto ma tu dici, due ore là sotto la gente esce che sembrano i pastori del presepe. Gli appuntamenti con Natale nelle Grotte proseguiranno con Giuliano Sangiorgi Canta le Stelle il 21 dicembre alle 21, stessa ora giovedì 22 dicembre, a chiudere piano a mezz'aria con la performance aerea di Bruno Montrone al pianoforte. Si rinnova inoltre anche per quest'anno l'appuntamento con il presepe vivente all'interno delle Grotte di Castellana, rappresentazione unica nel suo genere, a 70 metri di profondità. All'open space di Palazzo Carafa a Lecce ha fatto tappa la rassegna Parola Mia pensata dalla Gazzetta del Mezzogiorno per celebrare i suoi 135 anni di storia. Ospite d'eccezione è il presidente dell'OS Lecce, Sticchi Damiani. Ha fatto tappa a Lecce all'open space di Palazzo Carafa la rassegna Parola Mia pensata dalla Gazzetta del Mezzogiorno per celebrare i suoi 135 anni con incontri e mostre organizzate nelle città di Puglia e Basilicata. Il dibattito si è articolato attorno a due parole cibo e visione e proprio quest'ultima è stata scelta dal presidente dell'Unione Sportiva Lecce, Savero Sticchi Damiani, ospite d'eccezione dell'evento. Mi fa piacere che la Gazzetta abbia scelto me, il fatto di poter raccontare la mia esperienza per un momento di confronto e di riflessione. Io ho ragionato su questo tema della visione perché ritengo che riuscire a analizzare qualsiasi fenomeno, il mio è quello legato all'esperienza del Lecce calcio, attraverso un'analisi in prospettiva che non sia solo legata a guardare l'immediato, a guardare a un metro, ma a cercare di ragionare anche un po' nel lungo periodo, io credo sia un po' una caratteristica che deve non solo funzionare a ciò che uno deve fare nel calcio ma può valere per qualsiasi settore. È un anniversario non canonico perché sono 135, non 100, non 150 e tuttavia abbiamo deciso di festeggiarlo perché come lei sa e come i nostri ascoltatori sanno siamo tornati in edicole sul web da alcuni mesi dopo un periodo purtroppo troppo lungo di assenza dall'edicole dal web. Quindi abbiamo deciso di suggellare quest'anno del ritorno, il 2022, con una serie di incontri informali all'insegna di questo lessico familiare, popolare, meridionale, come l'abbiamo chiamato, fatto di parole per cercare di essere sempre di più quello che vogliamo essere, un giornale comunitario. La disabilità oltre la famiglia, tema di un convegno organizzato a Crespiano, provincia di Taranto, presenti anche politici e medici. La disabilità oltre la famiglia ha un futuro troppo spesso incerto. Se ne è discusso a Crespiano nel corso di un convegno organizzato dall'Associazione Vita, al quale hanno partecipato medici, politici e soprattutto campioni paralimpici che hanno portato la loro testimonianza diretta. Il confronto è stato moderato dal giornalista di Antenna Sud, Gianmarco Sanzolino. E' importante parlarne perché bisogna sempre sensibilizzare i cittadini alla disabilità, alle problematiche della disabilità, anche se io dico sempre la disabilità e abilità. Tra gli intervenuti il fisiatra e ortopedico del Giovanni XXIII di Bari, Francesco Manfredi. Il medico del Comitato Italiano Paralimpico ha scritto un best-seller per raccontare le straordinarie imprese di questi atleti. Sono atleti con disabilità importante che fanno parlare di loro per cose positive, non per tristezza, malinconia e pietismo, ma fanno parlare per orgoglio, voglia di riscatto e vittorie. Se non ci sono famiglie alle spalle le cose non funzionano perché purtroppo le istituzioni, possiamo dirlo e ribadirlo, sono molto assenti e le famiglie sono ancora oggi purtroppo costrette a fare i viaggi alla speranza, andare al nord, non solo per questioni di base di salute, ma anche per questioni proprio anche di controlli periodici, monitoraggio, cose che potrebbero essere fatte in Puglia se ci fosse un po' di organizzazione. Ha partecipato anche il vicepresidente della Commissione regionale sanitaria, Renato Perrini, che ha preparato degli emendamenti al bilancio in tema di sanità. Sono importanti queste ore perché si stanno cominciando a studiare gli emendamenti che si presenteranno in bilancio martedì. Naturalmente io sto spingendo molto sul nostro territorio, sulla nostra città, nella nostra provincia, che è in difficoltà, soprattutto nel campo sanitario, gli emendamenti che sto facendo è per cercare di fare lo screening per l'oncologico, per le donne che hanno problematiche, al seno. Sto presentando anche un emendamento per quanto riguarda il pancreas, un emendamento che riguarda anche la visita polmonare per i cinque paesi che hanno problematiche ambientali per quanto riguarda l'ILVA. Finisce qui il nostro TG regionale. Ci fermiamo soltanto per qualche istante e tra poco torniamo con la pagina agli approfondimenti dedicati alle province di Bari, Labatt e Foggia. Restate con noi. Rimani connesso. Scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud. Trovi tutte le news, i programmi in streaming e on demand e le pagine social.